Bene, 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 siamo in diretta e vediamo se c'è qualcuno che si connette con questa splendida giornata, perché oggi parleremo di un evento con cui ci vediamo in collaborazione con delle splendide realtà nel territorio di Cingoli, mentre che qualcosa comunque è uscito anche dai giornali, giornali locali e a breve, visto che c'è stata molta curiosità da parte di qualcuno di voi, abbiamo deciso, cioè meglio abbiamo deciso, diciamo che io ho costretto una delle fautrici, delle organizzatrici di questo evento a dire, ma dai, vieni a fare la diretta, perché bisogna spiegarlo alla gente, visto che molti di voi erano abbastanza curiosi, quindi siate clementi, bisogna essere clementi, intanto quanti siamo? Solo cinque persone? No, ancora di più dobbiamo essere quattro, no, cinque, meglio cinque, e quindi diciamo l'ho costretta a fare sta diretta, ma devo dire che rispetto in generale non è che mi ha detto, dopo vari tentennamenti comunque mi ha detto quasi subito di sì, quindi diciamo che non l'ho giocata bene, quindi ricordo che poi comunque sarà una diretta breve, dove vi spieghiamo semplicemente quello che si farà, che cos'è e che cos'è il bacio dintorno marchigiane, come si svolgerà e cosa c'è dietro e chi c'è dietro, perché non ce n'è solo uno e c'è soltanto belle realtà. E ovviamente voi potete fare le domande che volete, qualsiasi tipo di domande, ovviamente inerenti all'evento, a quello che stiamo parlando, quindi mi raccomando fate le domande nei commenti e soprattutto se riuscite dopo questa diretta condividete questa diretta nei vostri profili Facebook, così divulghiamo ancora di più. Allora, sono alle 19.03, quindi io adesso ve la presento. Sei pronta? Sì, giusto? Sì, fa sì col cenno, quindi è pronta. Bene, adesso vi presento Maria Sole. Ciao Maria Sole. Ciao Federico, grazie per la diretta. Mi hai ringraziato, lo so, lo so, lo so che ti ho costretto a fare questa diretta, però vedrai che molti dubbi di qualcuno che ha chiesto delle informazioni riusciremo in qualche maniera a far arrivare bene il messaggio. Allora, io prima parlavo dell'evento di Erbacci dintorni marchigiane. Ce ne vuoi parlare? Sì, certo, siamo qui per questo. Allora, Erbacci dintorni sono incontri annuali dove al centro viene messa la valorizzazione delle erbe spontanee dei prodotti locali. Vengono affrontate tematiche legate alla tutela della biodiversità, alla salvaguardia dei semi e tutte quelle che sono le pratiche virtuose e rispetto verso tutto l'ambiente e la natura. L'Erbacci dintorni marchigiane sono due giornate principalmente e sono organizzate grazie all'associazione Semilune di Bracciano. Infatti le altre edizioni sono state fatte proprio tra Bracciano e Cerveteri. Conoscendo Elena, Roberta, Valentina e Cristina, noi come Agriturismo Casare Fabrizi insieme alle altre realtà abbiamo aderito al progetto organizzando quella che doveva essere la prima edizione marchigiana, quindi portare Erbacci dintorni a Cingoli, nel comune di Cingoli. Ecco perché parliamo di Erbacci dintorni marchigiane. Durante Erbacci dintorni marchigiane diciamo che si svolge tutto quello che hanno fatto fino ad ora tra Cerveteri e Bracciano. Quindi si possono trovare la mostra a mercato con i prodotti locali e artigianali e in questa edizione di Cingoli appunto si sarebbe valorizzato quello che è l'artigianato e i prodotti delle aziende del territorio marchigiano. I laboratori per adulti e bambini, le conferenze e i dibattiti, la mostra fotografica, i percorsi di riconoscimento delle erbe spontanee e le attività collaterali e una postazione per lo scambio di semi, piantine e talee che è il centro di tutto. Ok, e come avevi detto prima, sono degli eventi, non è un festival giusto? Allora sarebbe dovuto essere un festival, quindi la data era fissata per il 29 e il 30 maggio di questo anno, quindi a fine mese. Però abbiamo scelto di rimandarlo in un momento migliore, anche perché non si poteva svolgere magari assieme la mostra a mercato con il laboratorio e quindi diventava anche problematico organizzare il tutto. e piccola parola, perché dietro a Erbacce e Dintorni, che è l'edizione marchigiana, ci sono numerose persone. Infatti l'evento si sarebbe dovuto svolgere e anche si svolgerà soprattutto grazie al supporto e al patrocinio del Comune di Cingoli, alla Proloquia e alla Croce Rossa di Cingoli, al gruppo Cingoli Turismo, e parlo di Cingoli perché ovviamente si svolgerà a Cingoli, quindi in realtà... Certo, giustamente. E anche Marchecraft ha dato la sua buona mano di organizzazione. Ok. Ecco, non ci sarà Erbacce e Dintorni marchigiane, ma in attesa di questo festival sono state organizzate numerose attività. E chi è che c'è dietro... Te parlavi prima di un'associazione culturale, no? Semi di lune. Però, vabbè, comunque sia avete fatto un lavoro per coinvolgere tutto il territorio di cingoli. Cingoli, che aziende, chi avete coinvolto per costruire tutto questo Erbacce Dintorni marchigiane? Allora, Cingoli siamo tra virgolette fortunati perché dietro a tutto c'è la grande collaborazione di realtà diverse, aziende agricole, enorastronomiche, attività produttive che vengono racchiuse dentro appunto il gruppo Cingoli Turismo. Quindi diciamo un buon braccio forte è anche il gruppo di Cingoli Turismo. Per quanto riguarda invece le attività di Aspettando Erbacce e Dintorni saranno organizzate da maggio, quindi proprio oggi abbiamo messo online il primo evento, fino, si spera, al mese di dicembre. Non abbiamo un calendario definitivo per ora perché la situazione non ce lo consente, proprio perché ogni 15 giorni cambiano le direttive, ma ogni fine settimana in ogni azienda che quindi porta avanti il progetto di Erbacce Dintorni marchigiane verranno svolti delle attività. Queste aziende sono il prima, la prima sarà l'azienda agricola Antinori Nerovisciola, poi l'azienda biologica Nonnovì, Cantina Bacelli, 1565 Mulino Bravi, l'azienda agraria di Antonio Treoppio Norati e l'agriturismo Casale Fabrizi. Quindi tra cingoli, la più lontana è forse quella di Antonio Trionfio Norati che è nel territorio verso Iesi. Comunque è una bella rete, insomma, avete messo su una bella rete di strutture, comunque piccole e medie aziende che hanno sposato quello che c'è dietro, il Bacce Dintorni e per farlo nelle Marche hanno sposato proprio la filosofia dell'ambiente o ecco quei progetti virtuosi, oppure con noi come agriturismo e come azienda agricola diciamo che ci siamo presi un po' tutto il pacchetto perché comunque conoscendo Elena e Roberta e le altre ragazze di Semilune essendo stati anche agli eventi di Erbacce Dintorni diciamo che siamo coinvolti ad ampio raggio. Prima parlavi di attività anche per adulti e bambini, parlavi anche dell'artigianato eccetera eccetera, però non c'è solo quello, ci saranno anche altre cose inerenti proprio a Erbacce Dintorni marchigiane. Sì, ci saranno sia anche delle attività proprio di riconoscimento delle erbe spontanee e anche laboratori per conoscere quello che è il mondo delle api e della canapa, poi ecco come dicevi tu, laboratori di artigianato che potrebbero essere di ceramica o stampa naturale su carta o tessuto vegetale, oppure gioielli in rame, quindi di attività ne abbiamo diverse, però ecco appunto non avendo un calendario definitivo non vogliamo svelare ancora il tutto. Ma orientativamente quanto questo pre Erbacce Dintorni, quanto saranno questi eventi, da che mese andrà, da quando partirà, quando prenderà tutte le state o anche altro? Sì, allora il primo l'abbiamo messo online oggi ed si svolgerà anzi sabato 15 maggio presso l'azienda agricola Antinori Nerovisciola con l'ENA e il progetto Le Erbe nel Teatto e quindi i partecipanti possono conoscere la trasformazione delle erbe spontanee ed anche assaggiarle, quindi sarà una giornata molto molto bella, anche perché l'ENA è un'esperta appunto, ha studiato molto per trasformare, come rendere le erbe spontanee in un altro modo, quindi appunto nel piatto. Quindi inizieremo il 15 maggio fino a fine dicembre, ogni fine settimana. Ci saranno delle giornate, dei mesi più intensi, come per esempio luglio-agosto, dove oltre al sabato e la domenica ci sarà anche il venerdì. Però sì, cerchiamo di partire, poi vediamo anche in base a come sono le direttive nazionali, perché dobbiamo rispettare anche quelle. E comunque essendo aziende agricole, fattorie didattiche, cerchiamo di fare tutto nel rispetto possibile. Nel rispetto delle normative. Sì, infatti anche per questo diciamo che non viene divulgato il calendario perché vediamo, cioè c'è da capire un attimo come si evolvono le varie situazioni, insomma. Quindi giustamente abbiamo, cioè confrontandoci, insomma, si è pensato giustamente di far così. Io ricordo, dimmi se sbaglio, Maria Sole, se avete delle domande, comunque c'è la pagina Facebook, che adesso la rifaccio rivedere, di Erbaccio e dintorni. Ci sono anche dei collegamenti, un'email, oppure comunque scrivete anche un messaggio sulla pagina Facebook. Però so che c'è anche, almeno me ne hai parlato, c'è anche un gruppo bello folto su Facebook. Ce ne vuoi parlare? Diciamo che è da lì che nasce il vero scambio di Erbaccio e dintorni, quindi non far perdere i saperi della tradizione, che possono essere poi tradizioni italiane in sé, non solo. Cambiarsi informazioni è nato questo gruppo Facebook. Dove tutte le persone possono dialogare tranquillamente, basta iscriversi al gruppo e per qualsiasi dubbio postare una foto. L'unica piccola parentesi, magari, visto che si parla di erbe spontanee, fare un attimino attenzione, avere un minimo di accortezza, nel senso che non andare nel campo e raccogliere la prima erba che sembra commestibile, della prima erba spontanea che sembra commestibile, ma studiare un po' cosa che anch'io sto facendo, proprio perché, ok, ho sposato a pieno Erbaccio e dintorni, però sono ancora alle prime armi. e la... cioè, come mai ti è... intanto se... se volete far domande, scrivetelo nei commenti per chi ci segue. come... tu, tu come persona, come sei venuto a contatto di questo... di questa associazione e come ti è venuto in mente di... di portarlo a cingoli e perché a cingoli? Allora, perché a cingoli ti rispondo subito. Parto dall'ultima domanda. Perché... stando a cingoli, vivendo a cingoli, mi sembrava il luogo ideale. E... però io ho conosciuto Elena e Roberta e l'associazione Semilune Erbaccio e dintorni perché, diciamo, ho preso le distanze da cingoli, quindi mi sono distaccata, ho visto come tutte le persone poi sono ritornata. Quindi le ho conosciute proprio a Roma, nel Lazio. E da lì mi è sembrato anche lì molto naturale entrare in contatto con loro, proprio perché poi anche noi, come Agri Turismo, siamo un'azienda di famiglia che è sempre vissuta in campagna, quindi... diciamo, si parla degli stessi argomenti. Mano a mano li stiamo approfondendo, appunto, perché poi non si finisce mai di imparare. E anche questa cosa, questo confronto continuo, ci piace. È una delle cose che portiamo avanti, sia noi come azienda, ma anche come persone. Quindi abbiamo sposato l'intento di tutelare, anche con piccoli gesti, la natura e quello che abbiamo intorno. Quindi l'hai proprio sposata in tondo da tutto quello che c'è dietro il progetto del bacio d'intorni. Sì, poi è un percorso lungo perché non finisce qui, ci sono anche tantissime cose che magari non sono venute a conoscenza e man mano le conoscerò. Anzi, veramente la prima edizione si sarebbe dovuta svolgere l'anno scorso. E dall'anno scorso a quest'anno sono cambiate tantissime cose. Quindi è stata anche una fortuna, non... fortuna poi, tra virgolette, non averlo potuto organizzare. perché la rete si è allargata, abbiamo conosciuto persone sempre più interessate, coinvolte e quindi diciamo che ci fa piacere. Poi, ecco, io parlo al plurale perché siamo un gruppo di persone... Ah, fa benissimo. Poi sì, tu mi hai coinvolto in questa diretta solo me perché gli altri purtroppo hanno problemi tecnologici, però... Eh, la connessione purtroppo prendeva solo a te, quindi... No, vabbè, come dicevo prima, l'abbiamo fatto questa diretta perché comunque serve specificare... siccome, tra virgolette, magari per il territorio potrebbe essere una cosa insolita, ma mettiamola tra virgolette, vedendo nei vari social media, sia nei vari canali social, sia Instagram che Facebook, c'era un po' di... c'erano, almeno, vedendolo, c'erano abbastanza richieste, però non si era capito bene il... l'evento... il prayer budget intorni e quindi diciamo che io ho buttato lì l'idea e... ho buttato lì l'idea, diciamo che ti ho tempestato e poi dopo mi hai preso un po' per sfinimento, quindi ti ho mai accolto questa... questa... questa diretta, però diciamo che serve perché almeno, per quello che ne capisco io, a me quando mi... ci hai detto di collaborare per prendere il bacio d'intorno, ormai credo, un anno fa, se non mi sbaglio, più... eh... si... eh... si hanno detto... io non ne capisco niente, quindi ti ho detto subito sì. la più usa... sì, 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 quindi ho detto ma è una roba nuova che non... non l'ho mai sentita, eh... o almeno nei... in giro per le marche, eh... poi comunque questo periodo qua si sente parlare di... eh... green, del rispetto alla natura, eh... soprattutto in questo periodo qua, eh... perché non... non incominciare già da un territorio come... eh... eh... le marche e come quello di Cingoli, dove, come hai detto tu, c'è una... tutta una rete di... compreso voi, come Casale Fabrizio e altre strutture eh... d'aziende che... propongono qualcosa di... no, di alternativo, comunque di... di diverso dal solito, diciamo, ma non dovrebbe più esserlo, però... no, infatti non lo è, non lo è anche perché... eh... appunto in questo anno siamo venuti in contatto anche di numerose attività al di fuori poi, di Cingoli e di tutto quello che... quello che stiamo facendo noi come erbacce dintorni, però... ce ne sono anche... per esempio poco fa ho conosciuto quello che hanno fatto a Cupra Montana, che si chiama Orti dei Semplici, quindi hanno ricostruito un orto e... catalogandolo poi con... delle etichette del QR code, un lavoro precisissimo che ancora non sono riuscito ad andare a vedere, però da le... da quello che mi hanno raccontato e da quello che ho visto in foto, ecco, è questo che... che porta... che cerca di portare avanti anche erbacce dintorni e l'edizione marchigiana quando si potrà fare. Esatto. E... sì, insomma, è questa cosa qua e comunque anche come scrivete nel post proprio educare al contatto eh... con la natura, cioè anche... eh... cioè è proprio una... sì, come hai detto te, non deve essere una roba tipo... ehm... nuova ma che comunque sia fa riflettere, ma... qua dici anche... si parla anche di attività... ci saranno anche di convegni, di presentazione dei libri. Io mi immagino che forse qualcuno che ci ascolterà o che ci sta già ascoltando vorrebbe averci qualche anteprima, visto che già una ne hai data. E quindi... o parli di anteprima dei libri? No, è di anteprima... se c'è qualche anteprima per i libri, qualcosa sui cookie, se c'è già qualche nome che lo vuoi lanciare o... preferisci... che comunque sia ricordiamo sempre di andare sulla... la pagina Facebook di Erbaccio e dintorni. Se lo puoi fare, eh? Sì, sì, lo possiamo fare. Possiamo dare una piccola anticipazione che ci sarà Nadia Sacchiotti, Simona Sacri e poi da conoscenza con gli editori che presenteranno il loro libro, anzi, il libro racconti di Marche, quindi immagini e parole per scoprire un territorio, appunto con la stessa autrice e il supporto di Simona Sacri e gioconeditore. Questo lo possiamo dire perché anche questo... questo lo puoi dire che... il resto non diciamo nulla. No, anche perché è vero. Ogni... più o meno una quindicina di giorni cambiano le cose, quindi è meglio no, 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 esatto. non lasci i cavoli. No, no, ma giustamente si è deciso di fare con tutti quanti, si è deciso di tenere questa linea ed è giustissima perché comunque sia non è tanto, è un po' rischioso uscire già con un calendario che arriva da adesso fino a dicembre, quindi tanto sui social ci stiamo tutti, controllarlo, andare sulla sulla pagina Facebook di Abacin dintorni non ci vuole un attimo, basta che seguite, cliccate su segui e avete fatto. Quindi vi arriveranno le notifiche e oh vabbè, praticamente io ti ho fatto tutte le domande possibili immaginabili non lo so, allora, se vedi? se sono le 19.25 comunque se volete fare delle domande a Maria Sola ancora ci avete tempo se no comunque andate sul sito sulla pagina Facebook di per Bacin dintorni che adesso vi faccio vedere e e qua è tutto riportato cos'è il Bacin dintorni marchigiano le attività come? Marchigiane marchigiane sbaglio sempre quello che c'è dietro chi c'è dietro le varie iniziative il primo evento che si terrà il 15 maggio e tutto diciamo qua troverete tutto quindi mi raccomando oltre a venire seguite la la diretta e ovviamente se avete curiosità o volete ancora volete ancora delle informazioni delle citazioni contattate la pagina Facebook e c'è anche profilo Instagram profilo Instagram giusto c'è anche un indirizzo email l'avevamo detto prima si direttamente nella pagina Facebook e e poi niente tranquillamente ci vediamo a erbacce e dintorni a cingoli sempre vedendo quello che le varie sorprese che ci saranno quindi non ci vuoi spoiler a più niente giusto non ci vuoi niente no proprio niente io ragazzi ci ho provato però non si può purtroppo non si può va bene sole io t'ho fatto tutte le domande possibili immaginabili e mi raccomando venite al bacio dintorni seguite la pagina Facebook e la pagina Instagram grazie Fede ciao a tutti ciao sole ciao ciao ciao